Al termine di un'intervista a Primo Canale mi è stato chiesto di ricordare le regole di autoprotezione. Ho colto l'occasione per denunciare che i social sono talvolta ironici a proposito di questi suggerimenti e che questa ironia è fuori luogo. Si tratta di comportamenti salvavita adottati e validati da enti operanti in tutto il mondo, anche in aree dove i terremoti sono davvero catastrofici. E a questo proposito ho anche ricordato che la sensazione di forte o violento può certamente dipendere dall'esperienza che ognuno ha, ma la definizione non è applicabile ad una scala assoluta. Infine, ho fatto osservare che, così come per altri mestieri, dovrebbe parlare di sismologia e terremoti solo chi ne ha titolo. Sento persone che non sono del mestiere, che hanno fatto una cattivissima pubblicità ai terremoti che si sono verificati in Liguria, facendone un quadro catastrofico. Io leggo delle descrizioni di questi terremoti che si applicano a malapena a terremoti di magnitudo 6, cioè a terremoti che fanno davvero paura. La parola violento o la parola forte per Mercalli, che non è proprio l'ultimo arrivato, si applicano soltanto quando le intensità sono superiori a 7, 8, 9, 10, cioè terremoti che fanno davvero dei danni. Fortunatamente, per ora, la situazione è di avere dei piccoli scuotimenti che fanno certamente paura, fortunatamente non fanno danni. Speriamo, voglio dire, che rimanga questa situazione perché, ripeto, non abbiamo contezza, ma soprattutto cerchiamo di viverla con la serenità che è necessaria in questa situazione, cioè guardiamo le cose come stanno. Al momento abbiamo scoperto che ci sono un po' più terremoti di magnitudo relativamente alta, ma non sono terremoti violenti, non sono terremoti forti e quindi chi non è di questo mestiere si astenga da parlarne.